Come siete? Buongiorno signora. E' pronta per ordinare? Si, sono pronta. Questa è la prima volta che mangio in un autentico ristorante italiano. Benissimo, benvenuta. E' la sua prima volta in Italia? Si, sono arrivata oggi. Porto Magriore è una sciarpa, ma è molto caldo oggi. Si, Roma, è molto caldo. Deve comprare un costume di bagno e andare alla spiaggia. E' molto divertente. Certamente, che divertente. A te cosa le piacerebbe. Si, molto. Mi piacerebbe un bicchiere di vino della casa, per favore. Bene. Rosa bianca. Bianca. E per antipasto? Che tipo di carne c'è negli appuntati di misti? Pasciutto, finocchiona, soppressata, salsiccia, un piatto italiano. E per antipasto? Che desioso. Vorrei quello per antipasto, per favore. Bene scelta. E per primo? Gnocchi al sugo di pomodoro. Bene. E poi cosa le piacerebbe, per secondo? Mi piacerebbe il pollo rosto con funghi, per favore. E per il contorno? Un'insalata mista con olio di oliva, per favore. Si. Le piacerebbe dolce? No, grazie. Sarò piena troppo al mio pranzo. Si. Bene. Ecco il suo pranzo. Il suo pranzo. I nostri passi sono molto grandi e preziosi. Si. Mi piace. Ma non so se posso mettere un costume di bagno dopo questo pranzo. Capisco. Benvenuto e buon appetito. Grazie. Buon appetito.